La dottoressa Rhonda Donoghue ha condiviso i cerotti X39 con me circa sette mesi fa. Tanti di voi sanno che ho avuto un tumore al seno terzo grado e sono stata malata per tre anni. Il mio sistema immunitario è stato molto compromesso. Lei mi ha dato questi cerotti sette mesi fa. Io ho iniziato a metterli. Il metallo è uscito dalla mia bocca durante il detox, la mia pelle è diventata molto molto morbida e il trauma psicologico anche se n'è andato. La parte più spettacolare è che i miei capelli si sono completamente ripresi, da viste come sono lunghi. La chemio mi ha dato un taglio bruttissimo, proprio sembreranno bruciati. Ho trovato delle foto. Adesso ve le condivido. Guardate questo taglio tremendo. Non guai a prendermi per i fondelli. Avete visto? Avete visto che taglio? È un risultato della chemio. Praticamente si è bruciato. Ed era tra l'altro molto molto grigio anche. Vedete anche lì come è nella mia foto, la mia amica del cuore che è parrucchiera, ha fatto del suo meglio, e mi fece questo taglio qui. Quindi questa è la versione corta dello stesso taglio. Non so neanche che colore sia una specie di marrone, ma insomma non molto sano. Adesso dopo sette mesi con i cerotti, guardate che bei capelli. Ovviamente vedete ancora che sotto sotto è quasi tutto ricresciuto, però vedete al fondo che c'è ancora quella parte brutta, diciamo, del taglio dovuto alla chemio. Adesso vi faccio dei capelli di Karen. Karen ha avuto anche dei capelli poco belli. Ecco i capelli corti e molto sottili. Lei ormai usa i cerotti da 5-6 mesi e guardate che bei capelli che ha. Bellissimi, vero? E adesso vi faccio parlare poi a queste persone, però vi faccio prima vedere le foto. Questa è la dottoressa Rhonda Donahue aveva dei problemi agli ormoni. Guarda Rhonda sembri quasi pelata in questa foto e guardate adesso dopo sette mesi. Guardate quanti bei capelli. Impressionante, vero? Impressionante, no? La differenza. Hai visto Rhonda? guarda che belli questi capelli. Poi in Whatsapp un signore mi ha condiviso questa foto. Incredibile, vero? Stava diventando pelato, molto in fretta e in un mese e mezzo, in un mese e mezzo questo risultato. Questa è la nostra amica Pamela, non c'è oggi nella Zoom perché è in giro, però mi ha mandato questa foto dicendo guarda che capelli. Avete visto al fondo che sono di nuovo diventati, stanno per ritornare al loro colore d'origine? Era tutto completamente grigio. Adesso è grigio scuro e sta tornando addirittura marrone. Questa è Alicia, la mia amica, che mi ha permesso di condividere la foto. Ha avuto problemi di ormoni per tutta la vita. Vedete che i capelli sono molto sottili, soprattutto davanti. Guardate la differenza. Sono otto settimane, due mesi che mette i cerotti. Guardate che differenza nei capelli. Impressionante, vero? Poi ancora... no, tutto qui. Ecco qua, tutte qui le foto. Adesso smetto la condivisione dello schermo e voglio parlare a queste persone. Karen, perché non ci racconti un po' dei tuoi capelli? Ti sono piaciute le foto? No, non tanto. Allora, quella seconda foto l'ho scattata io, la tua foto. Ero in un hotel, ti ricordi? Vabbè. Ad ogni modo, velocemente, ho sempre avuto capelli molto sottili, ho due sorelle con dei capelli bellissimi e foltissimi, invece niente. Non solo i miei capelli, ma anche le mie unghie erano molto sottili e molto fragili. Si rompevano facilmente sia le unghie che i capelli. Sono... Sono sette mesi che uso... anzi, otto che uso i cerotti. E in quel periodo... Ho tagliato qualche centimetro qualche giorno fa. Non so se vedete bene dal video, però sono belli folti. La sensazione è proprio bella, proprio diversa. E sono belli lunghi anche. Guardate che bella lunghezza. E quindi, insomma, molto contenta dei risultati. Non coloro i miei capelli. Sono trent'anni e non coloro niente. Li lavo, li curo e li taglio e basta. Sono anche più scuri. Ho qualche capello biondo, che ce l'ho da sempre. Però finalmente stavo avendo dei capelli argentati. Ero abbastanza entusiasta, finalmente. E invece no, niente. Stanno svanendo tutti i capelli grigi. E quando le unghie diventano più forti, è un buon segno di salute. Quando le... I capsie capelli che le unghie danno un buon... Sono uno specchio della salute interna. E il collagene e tutte le altre cose che stanno funzionando bene. Insomma, molto contenta. Grazie, grazie per la tua testimonianza sui tuoi capelli. Dottoressa Rhonda Donahue. Avete visto che avevo questo problema agli ormoni? Avete visto la peluria sopra? Dottoressa Rhonda, ci puoi raccontare un po' sui tuoi capelli? Beh, i miei capelli stavano cadendo rapidamente. Non mai da qualche anno. Prima di iniziare con i cerotti. Quando usavo il pettine, cadevano a mucchi proprio. Non sapevo più cosa fare. Usavo dei nutrienti extra, supplementi. Dopo quattro mesi con i cerotti, ho notato che non cadevano più i capelli. Non c'era più niente nella spazzola. Ogni tanto trovo uno o due capelli, tipo una volta alla settimana. Quindi i capelli sono belli folti. E non so se hai notato, stanno ritornando anche al mio colore originale. Soprattutto sopra. Era quasi completamente grigio. E so, pian pianino sta tornando scuro. Insomma, il mio colore è naturale, marrone. Molto interessante. Anche mio marito ha notato e dice Mamma mia, ma i tuoi capelli stanno diventando veramente più folti. E questa è una delle cose che ho notato. Una delle cose più importanti anche per me, direi. Con questi cerotti. Grazie. Grazie, Rhonda. Sì, è veramente bello. Io, Karen Rhonda, sette, otto mesi sui cerotti, con i cerotti. Avete visto che bella differenza nella lunghezza dei capelli, la foltezza dei capelli, lo spessore, non sembrano più rovinati e il colore, il colore è più scuro. Una delle mie pettinatrici mi ha detto che quando una persona ringiovanisce i capelli diventano più scuri. E mi dissi questo è esattamente quello che sta succedendo. Quindi sono molto, molto entusiasta. Ed è bello vedere queste testimonianze sui capelli. Erano tutti... Infatti tante persone sono così contenti di darmi le foto del prima e del dopo e mi piace molto condividerle. E la gente si sente più bella e lo vogliono far vedere, lo vogliono condividere. Alla nostra età, poi, tra i 50 e i 70 anni, insomma, si è contenti ed è bello sentirsi belli di nuovo. Quindi c'è ancora qualcun altro che vorrebbe condividere la propria esperienza rispetto ai capelli? Peter? Mark e Paulette sono online. Mark, ci sai? Non riusciamo a sentirvi, ragazzi. Potete togliere il mute. Stiamo tribolando un attimo con l'audio. Prego, prego, parlate pure. Ci sentite adesso? Sì, 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 vi sentiamo. Bene, 37 giorni con i cerotti. Abbiamo fatto le foto prima e dopo e stanno ricrescendo sopra. Sono 37 giorni e non ho ancora fumato. Scherzo, eh, perché non fumo. Avete capito la battuta o no? Ho capito, ho capito. Non fumo, quindi vi prendevo... Insomma, stavo scherzando. Però sì, insomma, la pelle sta migliorando. Il braccio sinistro finalmente assomiglia al braccio destro. Non ho più tutte queste macchie di vecchiaia che mi stavano vedendo sulla pelle. Perché prendevo un sacco di steroidi a causa del mio asma. E fai vedere la testa bene. Fai vedere il cranio. Mamma mia, i tuoi capelli stanno ricrescendo sopra. Questa è la foto prima. Dopo e prima. Prima e dopo. Guarda che differenza. Poco più di... Sono cinque settimane. Continuiamo con un altro mese. Poi vediamo cosa succede. Vi condivido un'altra foto. Complimenti. E tu, Paulette? Beh, allora, quando mi pettino i capelli anche io perdevo un sacco. Come dice la dottoressa, anche io perdevo un sacco di capelli alla volta. Adesso invece passo la spazzola, niente. Ho capelli belli folti. Insomma, sta scendo ben poco. Forse era lo stress anche. I cerotti mi stanno aiutando tantissimo. Anzi, io non ho mai colorato i miei capelli. Mai. Volevo i capelli grigi. Mi piacciono. Mi piace il grigio. E adesso sta diventando scuro. Vedete? Sta diventando scuro. Le mie ragazze che hanno 25 e 22 anni. Mamma, devi colorarti i capelli? No. No, 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 no. Quanto mi costerebbe farmi il colore per questi capelli? Ecco, no, non c'è più bisogno, infatti. Grazie. Grazie mille per la testimonianza. Grazie mille.